Il piedino O un quarto di pollice per cuciture d'angoli di un quarto di pollice Il piedino O un quarto di pollice ha una guida lungo il bordo destro, così che si può far scorrere il tessuto sotto di esso ottenendo un perfetto margine di cucitura di un quarto di pollice. Il piedino ha inoltre impressa la misura di un quarto di pollice lungo il lato che vi permetterà di far scendere l'ago e il perno esattamente intorno agli angoli. Agganciare il piedino alla vostra macchina e scegliere un punto dritto, posizionare il bordo del tessuto lungo la guida del piedino ed iniziare a cucire. Quando arriverete quasi alla fine della vostra cucitura, continuate fino al segno sul piedino, poi fermatevi con l'ago abbassato e girate il tessuto su se stesso. Ripetere quest'operazione per ogni lato in modo da ottenere una perfetta cucitura. Questo piedino vi sarà molto comodo per applicare le tasche alle vostre creazioni.